E io vengo da 56, l'anno 56, la prima che sto bene vengo sempre. Nicola è il santo più venerato della cristianità e davanti alla basilica stanotte, la mattina dell'8 maggio, alle 4 e mezza, sono arrivati i pellegrini da ogni parte d'Italia. Da Casalanguida. Avete viaggiato di notte, quanto ci avete messo? 3 ore e mezza. Quest'ora della notte, non era meglio stare a dormire? No, per San Nicola si fa questo ed è altro. Siamo un gruppo di 25 persone, una famiglia che ci teniamo per San Nicola. Tutti gli anni, tutti gli anni. Per San Nicola questo è l'altro? Sì, sì, abbiamo tanta fede. Per San Nicola veniamo qua, che fa tante quelle belle grazie che nessuno le può credere. Quanti anni ho? Io, 82, 93. Lo devi fare. Buongiorno, ben arrivato. Il sorriso di San Nicola, la speranza dell'anima mia. Quante bello a chiamare Maria è qua, è bello a sentirla chiamare. Buongiorno. 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 Grazie a tutti.